A Staropitego, Antani a Kabula, Antani non è che in piedi nulla. A Staropitego, Antani non è che in piedi nulla. E' strano che alla STS nessuno abbia visto questi filmati che girano da 14, oggi siamo al 19, sono cinque giorni, questa è la fine se fa licenziare ve lo dico io, ve lo dico io se fa licenziare.